Matteo è uno di noi, Matteo si è sacrificato, ha fatto tantissimo e quindi essere qui in questo momento è la cosa più naturale che c'è per il capo della polizia. Il capo della polizia, prefetto Lamberto Giannini, ha presenziato alla manifestazione organizzata dalla città di Velletri per dedicare il parco pubblico recentemente rinnovato alla memoria di Matteo De Menego, assistente di polizia e medaglia d'oro al valore civile. La memoria di nostro figlio si ricorda pretendendo una pena esemplare per l'assassino, poi ricordando quello che lui faceva, quello che lui amava e quello per cui lui si era dedicato e ha dedicato la vita. L'assistente di pubblica sicurezza Matteo De Menego è stato ucciso con il collega Matteo Rotta a Trieste il 4 ottobre 2019 a seguito di una sparatoria seguita al fermo di due persone sospettate del furto di uno scooter. Matteo sta con noi tutti i giorni, è un ragazzo sensibile, brillante, che amava fare il suo lavoro, amava la ragazza, amava la famiglia. Accanto ai genitori, al fratello e alla compagna di Matteo De Menego, alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Velletri e una folta rappresentanza delle forze dell'ordine e dei concittadini di Matteo. Grazie. 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 Grazie.